Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video e sono XIUDER e ragazzi oramai i giorni sono veramente scaduti manca pochissimo all'arrivo dell'evento finale di questa season 10 e più passano i giorni più vengono scoperte nuove cose che ci fanno capire quanto sarà importante come evento per tutta la storyline di questo Fortnite perché si ragazzi dalla season 0 alla season 10 è stato rivissuto tutto passo dopo passo proprio in questa season ed è molto molto probabile che con l'arrivo della season 11 ci saranno dei cambiamenti veramente incredibili! Nel video di oggi volevo parlarvi anche delle nuove skin di Halloween perché noi stiamo pensando a questo evento ma guardiamo già il futuro quindi al Fortnite nightmare dove ci saranno appunto nuove skin a tema a me personalmente piacciono veramente tantissimo quando fanno uscire le skin a tema di Halloween perché quelli di Epic ci tengono tantissimo ma vedremo anche negli aggiornamenti la nuova mappa One vs One ne abbiamo parlato già un po' di tempo fa un mese un mesetto e mezzo circa ecco le prime immagini che ci fanno capire un'altra delle novità probabilmente in arrivo nella next season e ovviamente ragazzi tutti gli aggiornamenti come vi anticipavo sull'evento di hand l'evento razzo chiamiamolo un po' come preferiamo di questa season prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima la domandina ve la devo comunque fare anche ieri tantissimi che mi avete risposto grazie di cuore per i vostri commenti ragazzi qualcuno riesco a leggerlo piano piano altri devo così e così ma ragazzi la domanda di oggi è davvero molto molto semplice ma te preferisci la skin bagliore oppure la skin iconic si ragazzi perché la iconic definitivamente è sparita con l'arrivo della skin glow chiamata in italiano bagliore hanno modificato nuovamente il nome proprio alla fine qual è che è la preferita secondo te a me piace tanto tanto la skin bagliore non sono mai stato un fan esagerato della skin iconic non mi è neanche mai gasato tantissimo il balletto per la skin bagliore molto molto carina ma quindi ciancio le bande e vando alle ciancio andiamo subito subito a vedere ragazzi la prima informazione incominciato il 2 per weekend anche per questa season ormai penso che sia la quarta credo di fila che ci regala il 2 xp per chi non è ancora riuscito a completare il livello stagionale potrà riuscirci con appunto il raddoppio dei punti esperienza guadagnati in questo weekend tra l'altro nello shop è arrivato anche il primo bundle da 600 v bucks per i livelli quindi un altro modo molto facile per riuscire a farmare punti esperienza extra e quindi portarsi a casa più livelli del pass battaglia ma andiamo avanti perché c'è anche un'altra novità insieme al 2 per xp e vi faccio vedere direttamente il video ragazzi il trailer ufficiale del nuovo bundle della banana chiamata anche p mille ma perché ecco questa scena è veramente meravigliosa la banana che ride che intanto un mitraglia violentemente veramente veramente tanta roba ho visto che hanno pubblicato sulla pagina twitter quelli di epic games che il bundle è disponibile adesso per tutti io posso confermarvi anche io ce l'ho disponibile lo trovate nella sezione del negozio insomma dove comprate i v bucks il bundle di questa banana p mille in realtà è molto interessante perché è vero che costa 15 euro ma anche vero che c'è un set di sfide collegato che ci ridà 1500 v bucks quindi in poche parole non lo stiamo pagando penso che sia semplicemente un modo per invogliarci ad acquistarlo un pensiero lo si può fare perché in fondo non spendiamo nulla ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e questo invece è rivolto a tutti quelli che hanno avuto problemi nel riscuotere la skin bagliore nonostante abbiano il cellulare che supporta questa skin un consiglio che vi do ragazzi reinstallate la l'applicazione di fortnite potrebbe esserci qualche problema relativo al launcher io vi consiglio di andare nelle impostazioni del telefono disinstallare fortnite e reinstallarlo in modo appunto come ha fatto quest'utente direttamente su twitter da poter sbloccare appunto la skin bagliore e poterla riscuotere in quanto chi ha il telefono compatibile ha diritto ad ottenerla ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento si parla di fortnite siamo già proiettati verso la season numero 11 come sapete l'evento del fortnite è sentito molto molto a cuore dallo staff di epigames bellissimo il precedente bellissimo anche il primo io li ho visti tutti e due tornerà il lanciazucche che è veramente meraviglioso speriamo che la mappa sia nuovamente a tema ma abbiamo anche il nome delle skin di halloween ragazzi se non mando per caso questo mandalo slide eccole qua school trooper neon versione maschile gangster monster anche questo versione maschile ghoul trooper maschile cuddle team dark versione femminile un sacchiotto the dark one versione maschile slurp creature anche lui maschile wright pale spooky e modern witch invece tre skin femminili tutte sono come vedete a tema halloween a tema horror se vogliamo tra virgolette dirlo così e ovviamente tutti si aspettano un potenziale ritorno della ghoul trooper cosa che non è successa l'anno scorso io sono più propenso a pensare che invece torni una versione ma anzi arrivi una versione maschile della ghoul trooper che potrebbe un pochettino mettere d'accordo tutti quelli che invece rivorrebbero la ghoul e andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento parliamo un attimino delle news relative all'evento del razzo abbiamo dei codici aggiornati dei delle stringhe di codice aggiornate dove ci viene detto che due minuti prima dell'evento si diventerà invincibili quindi non sarà possibile killare o essere killati questo penso che possa essere anche perché bloccheranno magari il timer in modo da rimanere in partita io consiglio sempre comunque di entrare 3 4 minuti prima in modo da avere appunto la possibilità di partecipare ad un match dove accadrà qualcosa comunque molto bella anche la cosa di diventare invisibili abbiamo anche un'altra informazione interessante questo è capitato mi è capitato personalmente nell'evento del cactus se per caso ritardate l'ingresso qualora riusciste a far partire un nuovo match verrete direttamente proiettati nel luogo dell'evento bypassando completamente tutta la lobby principale dove c'è l'autobus della battaglia quindi molto molto bella anche questa cosa per far vedere direttamente il l'evento in sé e come vedete ragazzi ci abbiamo l'ultimo leaks che ci dice che durante l'evento accadrà un momento in cui tutti i giocatori saranno frizzati un po come quando era successo nel butterfly event della season 7 o 8 non mi ricordo e chiudo ragazzi con questa immagine interessantissima che è presa proprio dai file di gioco sicuramente sarà relativa all'evento ma non sappiamo cosa vuol dire e non sono riuscito a far vedere la mappa 1v1 ve la faccio vedere nel video di domani vi ringrazio però tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su io sono sempre in live su twitch noi ci vediamo su twitch ciao ciao